E' la gleba E' la gleba Ma secondo me potevi scegliere Trova uno dei due E' dell'indecisia In un mondo dove non c'è massacro Questa è una partenza forte E' una partenza forte E' una partenza forte E' una partenza forte Che va a succedere Però poi Floodata immediata subito Ovvio Certo 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27 31 31 32 33 33 33 35 35 35 ok allora posso fare a nerd più uno più uno per leggere le carte è difficile davvero no 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 Io A due, grazie La Kansas che non si aspetta nessuno Allora Toughness for Wedding, sì, evil, sì 100%, Laydown Arms mi sembra Corretto Emperor va bene due Aspetta, aspetta perché potrebbe avere Farewell Non ha roba del cesso da togliere Non ha pezzi così importanti da rimuovere Però Come che Italia Ha un po' poco Un botto di creature Se tolgo Italia però tolgo anche Emperor Perché se metto Elspeth perché ho paura di Farewell Naturalmente Adelina Sì, al posto del front line Mi sa che metto le escape Troppo remove Così Così Anche questa l'amulico Questa si tiene Mi sveglio ancora Cacata Cosa non esiste Mr. Gleba Il concorso per decretare Mr. Gleba Oh, è lei Mi sveglio ancora Cacata Terra 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 ho vinto Quasi Eccolo qua No, 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 no Schemeristo Forti tutti eh Però la Terra anche Buona No, Mirelle Non ci posso arrivare Catar lo tengo Ma poi mi serve Terra Ok Emperor Oh Curioso Mi regalo punti viso Ma prendo lo Scry Che mi serve Io madonna La quarta Terra Ok Vabbè È un po' non vita Questa Però Prova Ah Mono bianco Soldato Non me lo aspettavo mai Te lo giuro Questa è che sia anche un gonfio di merda Perché dovevi Rozan Cosa fai Rozan Cosa stai Fazzendo L'ordine L'ordine Ho varie opzioni Ho varie opzioni Il turno dopo Questo va qui Ora Faccio Vedrà Non partisce Non partisce Non partisce Allora Questo si sfonda Che sicuro Poi Si partiziona E si sacrifica Un pezzo Ma si risolve Emperor Che cosa Buonissima E giustissima Ovviamente Lui per prendere Quei quattro Golosi Punti vita Mi farà risolvere Emperor Romirian Lui per prendere Urius Rotto Rotto Poiderendo Punto schiamativo Deck Ladro Guarda Il chapter è forte Il problema è Lit game Il lit game Inizia Non serve più a niente La fine Eh Io ho sempre paura Attacca Al top deck Con raffine Perché se poi Pischi la carta E ti serve La scarti I bestemmi Mi sveglio ancora Kakata Eh Devo finire Questo game Per Perché si appaia Sull'untapped Se pazientate 10 secondi Se no Da l'untapped Da schermo What? What? Ti sei punti vita? No No Le prendevo Le prendevo Il piscio Pregno ancora Kakata GG Saluto a Rosan Si scherzi Si scherzi Ci si Ah ma tutti A vicenda Cosa ne Della gleba Stai dicendo Che la Kansas Forse funziona? La Kansas Che ti prende In contropiede E non te l'aspetti Mai Tutti guardano A destra Non si va A sinistra E si porta Uno white Agro G significa Goffredo Gozzini Che è Quello che Taglia Il pisciutto Al mercato Ho per Anche 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 Mono black Secondo me In questo momento Rie Forte Probabilmente Mono black Lo c'era Con tre Liliane Non sto Sto giocando In Ma Si sta un po' Più dritto Allora Noi abbiamo Una curva Di schiaffi Nodevoli Questi sono Schiaffi E sono Nodevoli Poterra Passo Di peccato Non si energizzano Però Pizzano Voi dire Sperma Ignazio No Dio Kristen Stewart E da Non c'è figo Boom Mi ha tirato La botta Ah La botta La botta L'amici Dial Corporation Presenta La bomba Applauso Va fatto Anche Alla bomba Olè Quanti Airbester Al mondo Vuoi fare Costruire Inventare Ma trova Un minuto Per me Per voi E per gli amici I massoni Un altro Voglio fare un danno in più O scry Scry Sempre E per go 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 guarda mi vuoi si alla vista male io volessi da menaglie e basta perdo lo scrive o faccio più danni possibile un abbraccio a Silvia che sta male e non andare in corda un abbraccio a Silvia che sta male importante abbracciare Silvia che sta male o non fare time out abbracciare sì dai ce l'hai fatta dopo aver buttato mezzo mazzo a botta certo la potevano fare soldi alla fauna eh potevano sposare un po' di più allora grizzi per me Katar fa un po' schifo perché rende forti i cazzi sempre non serve però quanto line è rimasto bisogna risolvere qua successo audace ma tengo un po' non la pesca tranquillo ma dov'è il problema? non ho capito perché gioco tutti i turni e continuo a mettere pressione posso stancherla? posso pescarla anche ora a seconda te nuovo problema dai eeeh terra ah eh insomma magari le pescate una la potevo tenere però ho sbagliato dai è vero ah qui con taglia in curva avevo stravinto però niente terza va bene va bene guai gli ho dato quel momento di di ce lo faccio credere ok ah ho una torna torna dentro tutto quello che spinge si dentro tutto quello che spinge let's go l'altro forse finalmente risolvo un siege veteran che non l'ho mai risolta ma così la lyrics lo so me l'ha dette mio fratello colpesco legge la vince durissima però potrebbe avere make di sapere adesso invece no pow 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 uh molto meglio c'ho c'ho lo run escape quindi mi sta dicendo troppo a uno into troppo a uno troppo a due eeeh vince le partite di magic in questo meta come l'abbiamo mai detto era sì ragazzi no io faccio mana tight su go for the throat sai che forse forse mi conviene siege veteran e questo è un'assicurazione continua ottimo arubestero è figa però c'è tutto ma volita sta sta meno per 5 queste due va bene no no eeeh lo sapevo che era make i knew it eeeh non ha quella carta lì che non dirò voce alta come si vede non è quella vai taglia sotto male eccoci va no 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 ok no 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 oh cataran ho perso lo so che ho perso vedete cosa pescavo eh buongiorno queste no se queste due erano prima se queste due erano prima questo è un errore questo è un errore grave ho fissato le tame oh muoiono tutte alla fine del turno si fanno i miei nella mia end step ah allora perché ora lo fa ok passano comunque pochi rispetto a quello che potete fare ci potete andare a due ok niente i lethal assaggiato il signor capretti muto aspetta fammi riprovare aspetta ha mandato una foto era una foto del cazzo e niente non voleva parlare ma va a darci fastidio ha mandato una foto del cazzo posso mostrare posso mostrare poi 4 6 8 10 12 14 mi sta salita no non posso non posso ah non posso niente ha vinto come 857 vabbè sicuramente non possiamo più perdere va qui ma te usi già ragazzo no o no e lo ancora cacata pezzi 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 albine no 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 Sì, non è vero. è più alto ho fatto qualcosa ho fatto la nero hai ad emic una minaccia credo veteran proprio veteran un po' Grazie a tutti Tutto Provate a parare questi due Oh va uno Gli schiaffi dritti Non li levi Oh basta Sperchè 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 Un po' due Italia Due Italia proprio Sperchè 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 a teus sono turba ma con tutto no io sto bene il via sta male eh sono acciaccato stanco ma tranquilo ma c'è sempre qualcosa infatti negativa si spotify su spotify ma come fai su spotify su spotify su spotify su spotify basa moltissimo poi io ti cagerei giù Uh qui posso fare una roba incredibile però Ah va bene Flippo Ah dai E il veterano Fortissimo Ma certo Cosa può andare storto nel fare Anax Più Aspire Liberata Beh anche se ha snapperato Cambia poco Ok Tutto cane persa dottore Ah funziona sto mazzino funziona Funge funge Ha cose da dire Ha cose da dire Ha molte cose da dire Sacco di cose da dire Buono 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 Bellino Bellino Molto carino Sì Questa lista qui non penso ci sia troppo da modificare sinceramente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti